Ultimo dell'anno, il mondo ha lo scatafascio, viviamo in un clima veramente atroce, io sono a casa con mia madre e non mi sono mai sentito così solo come in questo momento della mia vita. Vengo da una notte insonne e vengo da un anno che tra alti e bassi è stato carico, lo ammetto, forse è mancata quella pace diciamo che ho cercato e non sono qui a fare i conti, non ho una canzone di cui parlare, perdonatemi, non so neanche io perché sto accendendo questo microfono e parlando, lo sto facendo perché comunque forse, forse mi sono dato questa risposta, perché io credo che oggi veramente una canzone, un testo, una voce che ci parla, un podcast, forse è più importante che mai in questo momento, veramente, allora ho detto sì magari non c'ho un cazzo da dire e partiamo così, partiamo che non c'ho niente da dire, perché chissà quante persone in questo momento non hanno niente da dire e allora io ci fosse anche una sola persona all'ascolto, ce ne fossero due, ce ne fossero dieci, io voglio condividere questo mio stato d'animo e non lo sto facendo perché ho bisogno di essere compreso, compiaciuto o chissà che cosa, ragazzi non me ne frega un cazzo, non sto parlando per me, ve lo giuro, sto parlando per te che stai ascoltando, chiunque tu sia e ti voglio ringraziare perché sei all'ascolto e spero con tutto il cuore che nel corso di questo anno io possa esserti stato utile, anche solo magari un giorno, magari ti ho sollevato una polemica e ti sono stato sul cazzo o magari ho parlato di un brano che mi piaceva quando non sto sempre a pensare a ciò che mi conviene perché questo è un lavoro per me e devo ringraziare Voiceland per questo perché era un lavoro anche prima ma loro, il network italiano di podcaster, hanno trasformato questo lavoro in un qualcosa che mi sta permettendo di fare altra arte, ho appena girato un nuovo cortometraggio, sto scrivendo un film che mi girerò da solo, sto vivendo in una grande città e tutto questo grazie solamente a Voiceland che mi ha dato una grande possibilità con le pubblicità e cazzi vari e ci tengo tanto ma io non mi scordo come è iniziato tutto questo e allora voglio ringraziare veramente di cuore chiunque in quest'annata che è stata un'annata difficile perché io venivo da un 2020 da vincente tra i podcast più ascoltati d'Italia, 2021 sono stato bannato, sono dovuto ripartire da zero per un errore non mio, per un errore di sistema e qualcuno è tornato, qualcuno è arrivato, qualcuno è rimasto ma in ogni caso io sono sempre stato qui, non mi sono fermato mai e allora per chi ci tiene, per chi magari ha bisogno di una voce e per chi si è rotto il cazzo di questa industria musicale, di questa industria cinematografica, di Spider-Man 15 che fa schifo al cazzo e poi non si riesce a trovare un fondo da 20.000 euro per dirti che è un nulla per un film indipendente e te lo devi girare tu con 1.000 e 2.000 euro perché è questo il discorso e te lo devi scrivere, devi fare la regia, devi fare tutto così come non si trova magari una situazione, un'etichetta che veramente spinga giovani nessuno o comunque che ti faccia suonare, ecco no, devi inventarti e allora è proprio per questo che la musica va dove va, che il cinema va dove va, che l'arte va dove va che il teatro è in mano ai soliti noti e non c'è più spazio per i giovani che al massimo possono fare una serata e poi affare in culo e io non mi arrendo, per il 2022 sto facendo mille progetti e farò anche un audiolibro podcast devastante fatto col cuore, ne ho fatti tanti di progetti in questo 2021, ne ho fatti tanti e ci tenevo però a leggervi una cosa che è tratto da una sceneggiatura che ho scritto e vi voglio augurare buon anno in questo momento difficilissimo e non è solo il covid è a livello sociale è a livello culturale che è difficile e vi voglio veramente dare un abbraccio a ognuno di voi all'ascolto e chiedervi scusa se ogni tanto magari prendo questo lavoro un po' alla leggera e dirvi che comunque io sta roba la faccio col cuore anche quando non sembra e che sto microfono a me mi ha dato tanto e tra tutte le cose che faccio alla fine dei conti è la cosa che mi piace di più ed è per questo che parlo stasera per condividere questo con voi e allora mi contraddico forse lo sto facendo anche per me stesso non ho paura di dire che ho sbagliato perché a volte si parte magari con un'intenzione e ci si rende conto che semplicemente ne hai un'altra allora vi leggo queste parole e vi auguro buon anno e che lo sia davvero solo al tempo possiamo porre le domande sensate ma le sue risposte sono dolori avvolti dal silenzio e ci ricordano le regole base del mondo tutto inizia e tutto ha una fine e dove il tuo dolore inizia spesso magari inizia anche la gioia di un altro e viceversa la vita è la patria degli sconfitti della noia e dei poveri illusi che corrono a destra e a manca per dimenticarsi che è così siamo soldati in guerra che non hanno più paura di morire perché hanno già perso la battaglia con la pace la felicità di cui parlano i poeti è veloce come un lampo ed è fatta della stessa materia del vento quelli che hanno cambiato realmente il mondo la chiamano fede qualcuno la riversa in dio qualcuno in un ideale qualcuno nel destino la maggior parte degli uomini è banale e si rifugia nella cultura dell'amore me compreso quando posso ma quello che non abbiamo non è di certo una cosa che appartiene a questa terra non ci resta che continuare a vivere a caccia di una nuova ragione per cui valga la pena farlo e forse prima o poi chissà la buona notizia è che colpo dopo colpo per quanto inaccettabile morire fa sempre meno male ci si abitua ma rinascere è ogni volta come fosse la prima non mi è bastato tutto il dolore del mondo per imparare a trattenere le lacrime davanti a un fiore che sboccia da Filippo Ruggeri monologato podcast che questo 2022 che sta sbocciando possa essere un fiore per ognuno di voi grazie grazie a tutti grazie a tutti